L'amministrazione comunale di Foggia rischia di inciampare nei cortoli che sta realizzando in piazza Cavour. La soprintendenza chiede chiarimenti all'ente di Corso Garibaldi circa l'autorizzazione che la stessa soprintendenza avrebbe dovuto rilasciare prima dell'inizio dei lavori in una piazza definita dall'organo ministeriale una delle più importanti della città da un punto di vista storico ed artistico sottolineando anche che in mancanza di autorizzazione si profilerebbe una violazione del codice dei beni culturali. La conseguenza di tale violazione non solo sarebbe il blocco immediato dei lavori ma il ripristino dei luoghi esattamente come erano prima dell'intervento non autorizzato con l'annessa sanzione. In una intervista che qualche settimana fa l'assessore Bove ha rilasciato a Teleblu si escludeva che per i lavori dovesse essere interpellata la soprintendenza. La strada non è un bene culturale, è un bene pubblico. Noi non stiamo parlando della fontana del Sele o del prona della villa, noi stiamo parlando della sede stradale e la sede stradale non viene stravolta perché viene lasciata così com'è, soltanto viene modificata la segnaletica orizzontale, cioè anziché, ripeto, dipingere le strisce che durano quel che durano, vogliamo fare un'opera che sia più duratura nel tempo per una maggiore sicurezza di tutti. A chiamare in ballo la soprintendenza Augusto Malasco che ha anche presentato un'interpellanza per chiedere all'Andella di conoscere le ragioni della mancata richiesta di autorizzazione. Inoltre, profilandosi un danno erariale, si vogliono conoscere le azioni che il sindaco intende adottare nei confronti del responsabile dell'inosservanza e di sapere chi pagherà per il ripristino dello Stato dei luoghi.